ci tengo a fare una precisazione prima di iniziare con questo video credo che sia molto meglio chiarire adesso io non sono assolutamente un esperto in opzioni ho cominciato solo da pochissimo sto cercando di fare pratica nel modo che trovo più adatto a me in questo periodo per come sono io come investitore nel momento in cui sarò più addentrato nel contesto delle opzioni andrò sicuramente a studiare altre strategie adattandole anche alla tipologia di investitore quale io sono adesso e come promesso settimana prossima andrò anche a fare uscire qui il video in cui tramite un mini tutorial su come uso la piattaforma bg saxo per operare in opzioni andrò anche a far vedere i passaggi e le operazioni che io seguo nonché i miei ragionamenti che mi sono a monte e tutte le ragioni che mi hanno portato a fare ciò per cui addentriamoci nei miei incassi di novembre che sono per un altro mese consecutivo il mio record personale ciao a tutti e bentornati sul canale risparmio come sempre sono pasquale il vostro investitore e risparmiatore della porta accanto nonché educatore finanziario AIF ed autore del libro da meno 35.000 in 18 mesi libro del quale trovi qui sotto il link nel caso tu lo volessi acquistare dove ti vado a raccontare la mia personalissima esperienza da cui sono passato dall'estero una debitato seriale a un investitore risparmiatore consapevole troviamo ovviamente qui sotto il link sia per la versione cartacea che per quella kindle partiamo prima di tutto dagli altri investimenti quello che è il lending crowdfunding come sapete ho iniziato a maggio a investire i compri pay e dal primo video presentazione ho anche investito in un secondo progetto a fine maggio questo mi ha portato a un totale di oltre 550 euro fra intambi i progetti il primo è un progetto immobiliare con un ritorno previsto del 18% e il secondo è per un app che viene utilizzata per la gestione delle farmacie con un ritorno previsto del 13 e mezzo per cento avevo intenzione di andare a investire molti altri molti altri progetti ma purtroppo ho avuto alcuni problemi e per cui non ho potuto aggiungere alcuna liquidità ora ho la liquidità e per questo attendendo che un nuovo progetto faccia capolino per poterlo agguantare al volo passiamo poi all'equity crowdfunding anche in questo caso come ben sapete dai video quasi recenti precedenti ho investito tramite la piattaforma we are starting nella che trovate tra l'altro il link in descrizione nel caso vorreste utilizzare ho investito in new it l'azienda di domenico e di daniele del canale officine investimenti una quota che mi rende socio a tutti gli effetti che si chiude questo progetto il 9 dicembre giorno in cui credo uscirà questo video perché lo sto registrando il 2 di dicembre per cui oggi credo almeno spero l'ora in poi comunque posso monitorare tutte le novità di questo progetto dalla piattaforma anche se in realtà con domenico ci sentiamo non dico tutti i giorni ma quasi più volte a settimana sicuramente e proprio per la conoscenza e la fiducia che ripongo in lui come personaticamente ineccepibile la mia conoscenza personale ovviamente mi ha fatto prendere questo gettone passiamo al portafoglio azionale che in quest'ultimo trimestre dell'anno sembra andare verso il meglio e in ogni caso il mese di novembre ha avuto una performance positiva dell'1 e 30 per cento da inizio anno sono in negativo del 13 per cento anche se in portafoglio in generale comunque da quando è stato creato in segno verde io l'ho creato ricordo nel febbraio 2021 al mio evento in italia quando avevo disinvestito tutto quello che aveva in irlanda dividendi opzioni assieme come dicevo prima mi hanno molto soddisfatto questo trimestre ancora non si è concluso si concluderà a fine dicembre ma tra i dividendi l'opzione in crescita dovrebbe essere favoloso questo trimestre secondo le mie proiezioni il primo trimestre vi ricordo del 2022 ovviamente si era chiuso con 153 euro il secondo con 183 e il terzo con 328 stimo che all'ultimo trimestre dell'anno si vada a chiudere intorno ai 900 950 euro un aumento del 419 per cento circa da inizio anno sono veramente contento nel mese di novembre 2022 222 euro vengono dalla vendita di opzioni cover call mentre dei dividendi 37 euro come mai questo cambio di gestione del portafoglio per la mia idea di generare continuamente il cash flow con le opzioni e anche con l'ausilio dei dividendi in modo da utilizzare tutta questa liquidità per acquistare quote di azione di tf che sono adatte al mio portafoglio e aumentarne il valore più velocemente possibile per quanto riguarda invece il pack che sto facendo per il bimbo ma che comunque è sempre a nome mio in questo momento e che lui se lo dovrà meritare come tutti i mesi ci metto una marea di gettoni questo mese ho recuperato tantissimi punti percentuali dal meno 3 75 per cento che aveva il trimestre scorso adesso a fine novembre è di un segno verde poco ma comunque c'è un più 0 7 per cento lui fa performance migliori di mie e neanche lo tocca il portafoglio lui vabbè eccomi qui alla fine dell'aggiornamento dei miei investimenti e del mio portafoglio che questo mese di novembre 2022 mi ha dato tante soddisfazioni ti ho dato una panoramica generale sul mio portafoglio nazionale su tutti i miei investimenti alternativi se questo contenuto è stato il tuo gradimento ti chiedo per favore come sempre di fammelo capire con un bel pollice in su per l'agoritmo di youtube lasciandomi un commento e dandomi le tue impressioni in merito se poi sono nuovo su questo canale non vuoi perderti nessun contenuto successivo ovviamente la cosa migliore che puoi fare è iscriverti e cliccare la campanella delle notifiche così ogni nuovo video che sarà pubblicato ti verrà notificato bene anche per oggi è tutto mi resta solo che salutarti e dirti arrivederci in un prossimo video ciao a presto